Oggi prepariamo le merendine Fiesta, realizzate ovviamente in versione vegana. Iniziamo preparando il pan di spagna. Montiamo l'acqua di cottura dei ceci con il succo di limone e lo zucchero. In un'altra ciotola uniamo la farina, il lievito, l'amido di mais, la bevanda vegetale, l'olio e infine l'acqua fabba montata. Mettiamo il composto in una teglia e via in forno! Adesso prepariamo la crema con l'amido di mais. La scorza di un'arancia, lo zucchero di canna, la curcuma, l'olio e la bevanda vegetale. Mescoliamo bene per evitare grumi e poi mettiamo sul fuoco. Ed ecco qui la nostra crema! Quando il nostro pan di spagna è pronto e freddo lo tagliamo a metà e lo inzuppiamo con una bagna di succo d'arancia e rum. Aggiungiamo la crema profumatissima e chiudiamo il dolce. Diamo la forma alle nostre merendine e ricopriamo con il cioccolato. Ed ecco la merendina Fiesta Vegan pronta per essere gustata!